vi volevo ringraziare tantissimo perché uno degli ultimi video che ho fatto vi lascio qui sopra e alla fine di questo video che era diciamo una toppa sui videogiochi più importanti del mio passato videoludico ha fatto un buon successo quindi sono molto molto contento e vi ringrazio tantissimo per questo per chi non l'aveste visto vi lo lascio appunto alla fine di questo video e qui sopra ma l'avevo lasciato quindi se volete recuperarlo insomma potete recuperarlo in qualche modo per tutti gli altri veramente grazie tantissimo ciao a tutti ragazzi io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video sigla oh eccoci qua eccoci qua un nuovo video unboxing questo totalmente a sorpresa perché non mi aspettavo uscisse così presto questa robetta che adesso andiamo a vedere che dalla scatola esterna ma andiamo un attimo con ordine per chi non mi conosce adesso io sono Andrea vi lascio qui sotto tutti i link per seguirmi che trovate in descrizione del video mi raccomando seguitemi dappertutto perché a voi non vi costa niente ma a me veramente da tantissimo non immaginate neanche quanto da a noi che facciamo questo tipo di lavoro se possiamo dire così quindi vanno a queste ciance trovate tutto in descrizione e andiamo a vedere un attimino questa cosa vi dicevo dall'esterno dalla scatola siccome è a finestra come vedrete non lo so mi ha lasciato delle sensazioni un po' così ma adesso andiamo a aprire insieme e vediamo un po' quali sono le sensazioni vediamo un po' andiamo eccolo qua il nostro Darth Vader dalla serie Obi-Wan Kenobi SH Figurars Bandai non è proprio enorme poi dietro alcune immagini non è enorme ma il dettaglio sembra stupendo dalla serie Obi-Wan Kenobi andiamo ad aprire vogliamo un po' questa insolita apertura all'interno c'è questo stupendo mini poster ma guardate quanto è bello credo che sia un'immagine presa dal quinto episodio cioè almeno per i colori poi può essere pure che in realtà è la scena quella nel fuoco della serie sicuramente è quella però ricorda molto e mi piace pensare che sia una scena del quinto episodio vediamo qui dentro che c'è istruzioni tutto ovviamente in italiano come potete vedere allora c'è la spada mmm molto interessante vediamo un po' vediamo qua però sono la filiata vediamo un po' allora bellissimo che il mantello è modellabile quindi possiamo metterlo come ci pare è modellabile sia qua tutta questa parte che dietro che in ogni diciamo cioè guardate è modellabile qui poi tutto qui sotto e poi anche in queste cuciture io lo possiamo mettere proprio come ci pare poi andiamo a vedere un po' tutto nero ragazzi non si vede però è fatto benissimo è modellabile anche il sotto questa parte qui si può modellare anche qui sotto gli snodi sembrano veramente al top perché hanno fatto una bella roba qui sulla spalla quindi l'hanno fatto bene anche qui alla fine potevano potevano farlo non lucido come tutta parte qui però insomma lo sono giocata bene ovviamente doppio snodo che finisce così finisce finisce bene gli snodi sembrano veramente tanta roba cioè si può mettere in tanti modi anche sotto le gambe vedete sono super super anche qui un po' qui non c'è il doppio snodo ah si c'è il doppio snodo qui veramente allora sugli snodi nulla da dire anche sulla punta c'è fatto tutto bene diciamo tutto colorato bene anche perché ragazzi questa è una figure che insomma ha un costo importante perché anche la testa si può muovere benissimo eccolo qua poi vedremo come si potrà mettere ma questo sicuramente sarà divertente poi benissimo guardate qui la catena diciamo che tiene unito il mantello è proprio sembra proprio di metallo insomma sarà fatto un lavoro veramente buono vediamo poi come si potrà mettere io penso si possa anche sfilare il mantello qui abbiamo come abbiamo visto nelle istruzioni abbiamo la possibilità di mettere la spada se non vogliamo metterla in mano anche sul sul cord insomma vabbè sugli snodi ragazzi veramente stiamo parlando di una roba fatta bene fatta veramente bene e comunque mi piace questa cosa del mantello che si può modellare ragazzi possiamo dare un senso tipo di vento cioè veramente su questa roba hanno fatto un lavoro buono questo lo lasciamo un attimo qui andiamo a vedere gli accessori abbiamo allora come laser della lama abbiamo questa che a me non piace per niente però l'idea è figa il fatto di diciamo simulare no il movimento della spada laser e quindi fa quell'effetto lì però non è che gli faccia impazzire abbiamo poi una spada laser un'altra che questa che lo vada a fissa perché una che vedete dentro a per inserire cose e una no questa è quella spenta e questa è quella dove possiamo inserire per esempio poi abbiamo questo coso che sarebbe diciamo tipo il coso che ha Darth Vader davanti con tutti i pulsanti rotto quando lo rompe Obi-Wan abbiamo diverse mani due così uno si sta usando la forza che posizione sarebbe due che indicano due per diciamo impugnare due così che danno la mano e le ultime due così che sembra quasi che stia sparante sembra tipo per impugnare la pistola ma in realtà è sempre per strangolare gente visto che diciamo Vader è una cosa che fa di solito strangolare le persone e poi bellissima questa testa con la diciamo con il casco rotta dove si intravede il volto di Vader che è tutto maciullato peraltro questo è il volto di Idle Tristanson che dice abbastanza ha fatto veramente benissimo benissimo vediamo un po' l'altezza che comunque alla fine dentro la scatola sembrava più piccolo invece alto 18 cm perché non è per niente male non è per niente male mi sembrava molto molto più piccolo tra l'altro io non avevo una figura di Vader così e quindi volevo troppo prenderne una ho visto questa comunque della serie che mi sembrava molto figlia questa è della serie ma insomma può essere utilizzata come Vader generico è veramente bellissimo secondo me ragazzi stavo per dire adesso faccio una bella recensione diciamo negativa perché comunque il prezzo di 130 euro è tanto questo c'è da dire che è veramente tanto però c'è anche da dire che è clamoroso fatto veramente benissimo e quindi si vede che è un prodotto costoso ora non ho mai avuto in mano una Hasbro simile che quelle costano per meno però questa devo dire che è veramente un acquisto super consigliato per i fan Japan World grandissimi come sempre attenzione ragazzi perché invece mi sono dovuto ricredere ricredere tantissimo perché in realtà è una figata questa action io credevo fosse molto più piccola invece è alta circa 18 centimetri è veramente stupenda stupenda sicuramente il prezzo di 130 euro è comunque alto possiamo dirlo però la qualità c'è se non ne vale 130 ne valerà 90 però insomma comunque un prodotto di qualità si vede si vede negli snodi si vede nel mantello si vede proprio nell'effetto che quando ho messo lì fa ecco adesso voi la starete vedendo capite di cui sto parlando questa action figure di Darth Vader uno dei miei personaggi preferiti della storia del cinema in assoluto in generale è uno dei miei personaggi più importanti ce l'ho in diverse scale ma ne ho uno enorme ne ho uno più piccolo e questo qui è solo nella scala perfetta veramente bellissimo sicuramente sei personaggi più figo qualche centimetro in più ma comunque sono 18 centimetri importanti e quindi niente la Bandai con questa linea SH Figures ha fatto secondo me un buonissimo lavoro quindi per i fan della saga secondo me questa qui la dovete prendere perché è zittratta da Obi-Wan la serie ma comunque può essere utilizzata per qualsiasi cioè in generale come Darth Vader generico quindi secondo me acquisto per i fan super consigliati per gli altri insomma è una spesa importante quindi vedete voi ecco comunque questa qui l'ho presa da Japan World un negozio a cui mi affido spesso insomma in descrizione trovate il link per accedere al sito e poter acquistare anche questa action figure se è ancora disponibile quindi grazie a tutti per avermi seguito spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate e vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima